Ieri di Napolitano tutti i partiti hanno confermato le loro posizioni dopo una notte di riflessione. Oggi arriverà la risposta del Capo dello Stato, governo di scopo del Presidente con l'accordo dei partiti, ma Napolitano potrebbe anche annunciare le dimissioni anticipate per accelerare nuove elezioni. Sergio Marchionne è indagato dalla Procura di Nola che accusa la Fiat di discriminazione contro gli operai di Pomigliano d'Arco iscritti alla FIOM. Nel registro degli indagati anche il manager di fabbrica Italia, Sebastiano Garofalo, una decisione sconcertante e paradossale, replica con durezza l'azienda torinese. Enzo Iannacci è morto a Milano all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. Cabarettista e cantautore, poeta della musica, Iannacci era anche un medico cardiologo celebre per i suoi sodalizi con Giorgio Gaber e Dario Foi. Celentano lascia brani indimenticabili come quelli che, vengo anch'io, ci vuole orecchio. Tutta in un solo giorno la trentesima giornata di Serie A. Oggi l'Inter è ospita la capolista Juventus. Il tecnico Conte non esclude un suo futuro sulla panchina nera-azzurra. Tutte impegnate fuori casa, le inseguitrici dei bianconeri, il Milan a Verona con il Chievo, il Napoli a Torino e la Fiorentina a Cagliari, ma porte chiuse. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della Sete. Dunque anche oggi tutta l'attenzione puntata sul Quirinale. Tra poco conosceremo le decisioni del capo dello Stato napolitano che si è preso una notte per riflettere, per cercare di sciogliere il rebus politico e dare all'Italia un nuovo governo. Gli incontri di ieri hanno certificato lo stallo, il Partito Democratico ha ribadito il no al governissimo ma ha garantito il pieno appoggio e il pieno sostegno alle decisioni, a qualunque iniziativa del capo dello Stato. Il PDL ha invece rilanciato le grandi intese e i grillini continuano a dire no a tutto e a chiedere un governo a 5 stelle con un grillo che vuole eliminare il porcellum e tornare alla vecchia legge elettorale. In questa situazione davvero complessa, in questa situazione di stallo, gli scenari ipotizzati sono due o un esecutivo del Presidente con una figura istituzionale oppure un estremo gesto, le dimissioni di Napolitano. È cambiato poco nelle ultime 24 ore. Al termine del giro di consultazioni supplementari di Napolitano, infatti, si registrano le stesse difficoltà di due giorni fa tant'è che la giornata si è chiusa ancora una volta con il Presidente che chiede una pausa di riflessione prima di far conoscere, forse oggi, le proprie decisioni. Dunque, stallo. Ancora questa è la sintesi della complicatissima situazione politica. Infatti, tutti i gruppi parlamentari ripetono al Capo dello Stato le proprie posizioni. Il PDL conferma la propria disponibilità per un governo di larga intese, anche guidato da Pierluigi Bersani, e insieme alla Lega dice no a governi tecnici. Dal Movimento 5 Stelle, invece, ancora una volta no a qualsiasi esecutivo, guidato da politici diversi dai grillini. I centristi sono disponibili a fare maggioranza con gli altri schieramenti. Infine, il Partito Democratico, contrario ad un governissimo con il PDL, prende atto dei tanti no al progetto del suo segretario e si affida alle decisioni di Napolitano. Questa è la posizione dei diversi schieramenti, accomunati da un unico convincimento, la fiducia nell'operato del Capo dello Stato. E allora ci si chiede a questo punto cosa potrà decidere Napolitano, affidare un incarico ad un'altra personalità politica diversa da Bersani, insistere con il tentativo del segretario del PD, chiamare a inquirinare una figura istituzionale, il Presidente del Senato, oppure ricorrere, ancora una volta, alla società civile. E la memoria va a precedenti illustri, come Carlo Azzierio Ciampi, Lambertodini e Mario Monti. Eppure, a partire dal pomeriggio di ieri, circola anche un'ipotesi estrema. Secondo alcune fonti parlamentari, Giorgio Napolitano, verificata l'impossibilità di dipanare la spinosa matassa politica, potrebbe anche annunciare le proprie dimissioni in anticipo di alcune settimane. Una decisione estrema del Capo dello Stato, che avrebbe come obiettivo quello di costringere il Parlamento a trovare una maggioranza per reggere il nuovo inquilino del Quirinale. E poi, appunto, con un nuovo Presidente della Repubblica, rendere possibile anche l'opzione estrema dello scioglimento del Parlamento per andare subito a nuove elezioni. Ma si tratta solo di ipotesi. Di certo c'è solo che manca anche solo una possibile maggioranza. Le determinazioni del Capo dello Stato arriveranno tra poche ore, probabilmente. La sala stampa del Quirinale, infatti, sarà forse riaperta. E da quel momento tutti attenderanno di sapere che corso prenderà la diciassettesima legislatura. Ancora poche ore dunque. Intanto il movimento dei grillini, come dicevamo, ha chiuso su ogni ipotesi e continua a rilanciare quella invece di un esecutivo a 5 stelle. Non è una provocazione. Siamo in grado di portare avanti questo progetto. Ha spiegato su Facebook il portavoce Crimi. a usare toni duri. Ancora una volta Beppe Grillo che chiede di cancellare il porcellum per tornare alla vecchia legge elettorale e poi attacca i giornalisti. E ribadiamo la disponibilità a votare in aula ogni legge che si accordi con il programma come la riforma della legge elettorale, la legge anticorruzione, la legge sul conflitto di interessi e quelle iniziative legislative di cui parlavo prima. Ammesso che ce ne fosse ancora bisogno, è stato il capogruppo Vito Crimi insieme alla sua pari grado alla Camera Roberta Lombardi a ribadire ancora una volta la posizione del Movimento 5 Stelle preoccupandosi anche di chiudere subito quel presunto spiraglio che si era aperto in giornata. Non ho mai detto questa cosa. Anzi, ho proprio utilizzato quel termine pseudotecnico per indicare un governo al quale non darei la fiducia. Equivoci a malintesi a parte è la solita linea del o noi o nessun altro senza peraltro fare il nome di un eventuale ipotetico candidato. Come abbiamo già detto svariate volte è il progetto politico che per noi è importante che si riassume il progetto politico che si riassume nei nostri 20 punti di programma. Ci vuol poco per sapere cosa ne pensi direttamente Beppe Grillo collegato via telefono poco dopo con la cosa sul suo blog e quel che ne pensa non può essere certo definito una novità. Devono capire che per loro è finita e devono andare via tutti. A parte naturalmente il tema rilanciato in questi giorni della possibile proroga del governo ancora in carica per affrontare e risolvere questioni urgenti come quella della legge elettorale. Un governo misero c'è si potrebbe domani mattina andare in Parlamento e fare con una semplice votazione l'abolizione per esempio della legge tornare alla legge precedente. Per il governo che verrà comunque la prima emergenza resta l'economia perché la crisi lo sappiamo continua a mordere lo dimostrano anche i dati sull'inflazione inflazione che si raffredda ma in realtà questo è l'effetto di un pesante stallo dei consumi. Diciamolo pure vista la situazione politica e il conseguente rallentamento economico per l'Italia è un bene che le borse europee siano chiuse per le festività pasquali. Da martedì però il Paese dovrà tornare a fare i conti con spread gen rialzo e la fiducia degli investitori in caduta libera. L'economia infatti continua a frenare. Secondo le stime Istat diffuse ieri a marzo l'inflazione rallenta e si assesta intorno all'1,7% su base annua contro l'1,9% del 2012. Si tratta della sesta frenata consecutiva legata soprattutto alla riduzione dei prezzi dei carburanti e il valore più basso registrato dal novembre del 2010. In lieve rialzo invece più 0,3% l'inflazione mensile condizionata a marzo anche dai maggiori acquisti legati alla Pasqua. Rallentano segnando il valore anno più basso dal settembre del 2010 e anche i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori. Il cosiddetto carrello della spesa 2% su base annua 0,1% su base mensile. E a febbraio come mostra il cartello rallenta anche l'indice dei prezzi e la produzione dei prodotti industriali. E torna in primo piano il caso Pomigliano continua il braccio di ferro tra la Fiat e la giustizia italiana e si arricchisce di un nuovo capitolo perché la procura di Nola ha accusato il lingotto di discriminazione contro gli iscritti FIOM e ha iscritto nel registro degli indagati l'amministratore delegato dell'azienda Sergio Marchionne e Sebastiano Garofalo che è l'amministratore delegato di fabbrica Italia Pomigliano. Doveva essere il cuore pulsante del modello Marchionne invece Pomigliano d'Arco rischia di essere per l'amministratore delegato della Fiat una vera e propria Caporetto. L'ultima puntata di una vicenda che promette però di essere molto lunga e di riservare ancora parecchie sorprese. E' andata in scena ieri palcoscenico principale la procura di Nola che ha inviato l'avviso di conclusione indagini a Sergio Marchionne e alla D di Fabbrica Italia Sebastiano Garofalo. Entrambi sono indagati e un salto di livello dal civile siamo passati al penale e proprio perché secondo la procura l'azienda non avrebbe ottemperato le decisioni della giustizia civile sono due infatti le contravvenzioni contestate ai due manager l'asserita discriminazione sancita da due pronunce del Tribunale di Roma e da una di quello di Torino è mai di fatto sanata degli iscritti alla FIOM nel trasferimento dei dipendenti di Fiat Group Automobiles a Fabbrica Italia Pomigliano e il mancato riconoscimento in Fabbrica Italia Pomigliano dei cosiddetti diritti sindacali alla FIOM un'inchiesta nata proprio da un esposto delle tute blu della CGL che ora sono pronte a costituirsi parte civile nel caso molto probabile che venga chiesto il rinvio a giudizio di Marchionne e Garofalo un vero e proprio fulminaccio il sereno per la fabbrica torinese che infatti usa parole durissime per commentare la chiusura delle indagini dando per prima la notizia l'iniziativa della procura di nola è sconcertante e paradossale e l'ennesima espressione si legge nella nota dell'inusitata offensiva giudiziaria avviata dalla FIOM nei confronti di Fiat da più di due anni con la promozione sulla sola questione del riconoscimento dei diritti sindacali di 62 ricorsi ora secondo le procedure i due manager hanno 20 giorni di tempo per sottoporsi ad interrogatorio oppure presentare una memoria difensiva e solo dopo questo passaggio si potrà decidere sull'eventuale rinvio a giudizio ed è sempre in primo piano il caso al Drovandi ieri è scesa in piazza a Ferrara c'è stata è scesa in piazza all'altra Ferrara diciamo così in segno di solidarietà verso la famiglia al Drovandi e contro il Sittine che era stato invece organizzato dai poliziotti del COIS che sta a sostegno dei quattro agenti condannati per l'omicidio di Federico Aldrovandi una piazza piena per Federico una manifestazione per protestare contro chi ha difeso gli agenti che lo hanno ucciso ieri a Ferrara migliaia di persone si sono ritrovate in strada davanti al poster di Federico Aldrovandi il ragazzo ucciso nel 2005 durante un controllo di polizia appeso uno striscione blu con una scritta stop il sindacato che mercoledì scorso aveva organizzato un sit-in proprio qui nella stessa piazza sotto l'ufficio della mamma di Federico per chiedere la liberazione dei quattro agenti condannati per l'omicidio questa solidarietà è grandiosa è enorme non è per me è per Federico e per chi gli vuole bene ha detto ieri la mamma del ragazzo dal palco il padre è tornato a chiedere ancora una volta che i poliziotti condannati vengano espulsi dalla polizia provvedimento che invece non è mai scattato la commissione disciplinare della polizia ha già concluso il procedimento con una sospensione di sei mesi lo stesso ministro dell'interno ha detto che con una condanna per omicidio colposo non è consentito il licenziamento ma potrebbe essere valutato il disonore alla divisa dalla divisa deve uscire l'uomo e deve chiedere scusa ha detto il padre scuse che invece non sono mai arrivate adesso si aspetta l'esito dell'ispezione voluta dal ministro dell'interno per la manifestazione del COISP con un'ordinanza il questore di Ferrara aveva concesso la piazza disponendo addirittura un adeguato servizio d'ordine al fine di prevenire ed impedire si legge che nei confronti di quel presidio venissero messe in atto azioni illegali in una lettera il sindacato ha scritto alla cancellieri non cada nel tranello quella manifestazione non era contro la sentenza e tutti sapevano dell'iniziativa nessuno ha mosso rilievi né sul luogo né sulle modalità la musica ha perso uno dei suoi grandi protagonisti è morto a 77 anni Enzo Iannacci cantautore medico artista poliedrico ucciso da un cancro contro cui combatteva da tempo 50 anni di carriera senza schemi fissi segnati da canzoni indimenticabili come vengo anch'io not un no e ci vuole orecchio una lunga battaglia contro un male incurabile persa ieri a 77 anni Enzo Iannacci cantautore geniale medico chirurgo attore e cabarettista si è spento alla clinica Columbus di Milano Milano la città che cantò per più di 50 anni presenza ma ingombrante dei suoi testi surreali e malinconici cornice ideale dove si muovevano i personaggi della sua generazione è a Milano che Iannacci cominciò a fare musica privilegiando la passione per il pianoforte a quella per la scienza un debutto come jazzista poi l'incontro con Giorgio Gaber amico e collega di una vita con cui formò il duo i due corsari ma quella con Gaber non sarà l'unica collaborazione di una carriera lunga e piena di successi soprattutto come solista Giovanni il telegrafista quelli che Veronica Vincenzina e la fabbrica ci vuole orecchio la lista delle canzoni diventate l'emblema di una Milano sparita davvero lunghissima caratteristica comune delle sue opere una sensazione di dolore struggente mascherata da un'ironia sottile e mai volgare capace di descrivere luoghi e persone sconfitte ma sempre pronte al riscatto magari lontane ma comunque simili a noi scrisse colonne sonore per il cinema e il teatro e le sue canzoni furono il trampolino di lancio di diversi comici in voga poi per anni Cochi e Renato Massimo Boldi Diego Abbatantuono Giorgio Faletti e tanti tanti altri l'ultima apparizione in televisione un paio di anni fa nel salotto di Fabio Fazio una lunga serata in cui sfilarono i suoi amici per ringraziarlo di tutto una sorta di saluto pubblico per un grande artista che ci mancherà davvero Papa Francesco continua a stupire tutti con i suoi gesti umili con i suoi fuori programma che stanno segnando il suo pontificato e l'ha fatto anche ieri con la sua preghiera silenziosa prostrato nella Basilica di San Pietro e quando ha guidato la sua prima Via Crucis Un Papa sorridente alla sua prima Via Crucis vive 70 minuti di intensità accanto a chi crede e accanto a chi ieri sera era al Colosseo la folla lo acclama e il pastore è lì Via Crucis dicevamo intensa letta così negli sguardi della gente nelle parole pronunciate insieme alle letture del Vangelo e del Libro dei Salmi con le meditazioni sul tema della Passione di Cristo testi scritti da giovani libanesi di fede cattolica letti anche da Lina Sastri meditazioni dunque in realtà messaggi chiarissimi spesso di stretta attualità una Via Crucis dedicata così a tante singole categorie di umani denunciate come nel caso dei Pilato della politica difese come le tante donne violate ogni giorno nella dignità messaggi di denuncia dei mali che affliggono il mondo secondo la visione cristiana quelli che riguardano i giovani vittime di felicità artificiali gli sfollati i migranti forzati chi è diviso all'interno stesso del mondo cristiano meditazioni ancora sulla rinuncia all'interesse personale settario sulle sofferenze della chiesa orientale perseguitata e poi il Medio Oriente scrivono i giovani libanesi per la Via Crucis di Roma di salvare quelle terre che sono culla di civiltà e valori umani violate da terrorismo e violenza che nega l'unità delle fedi al Medio Oriente Via Crucis per la preghiera concludono le meditazioni per chi cerca il senso della vita e non si accontenti più di un'esistenza priva di bellezza e significato alla fine il Papa ringrazia tutti e i giovani libanesi in particolare finisce il venerdì di passione iniziato così in San Pietro secondo tradizione domenica per Papa Francesco messa pasquale e benedizione urbi e torbi un'altra delle tante prime volte del Papa nuovo venuto dalla fine del mondo e c'è un'ultima ora perché sono ripresi gli sbarchi sulle nostre coste ed è ripreso lo stilicidio di morti due immigrati che insieme ad altre 88 persone avevano tentato di raggiungere Lampedusa su un gomone sono morti per una grave ipotermia a bordo di una moto vedetta della Guardia Costiera italiana che era intervenuta per i soccorsi in chiusura allo sport con il calcio con la trentesima giornata di Serie A che si disputa tutta oggi i riflettori sono puntati sulla super sfida di Milano tra Inter e Juventus vediamo la sorpresa pasquale dei calciofili è trovare 18 punti di distacco tra Juventus e Inter che si affrontano nel derby d'Italia all'andata la squadra di Stramaccioni colpì al cuore lo Juventus Stadium andando in un solo punto dai bianconeri quella di oggi è un'altra storia che ridimensiona il confronto ma non le motivazioni la Juve potrebbe correre il rischio di farsi condizionare dal grande appuntamento di Champions martedì in casa del Bayern Conte si ribelle carica i suoi con uno slogan ad effetto questa è la partita della vita e noi vogliamo vincere perché non siamo abituati a fare calcoli il tecnico rinuncia a Vucinici e Isla però recupera Chiellini in ballottaggio con Marrone per una maglia da titolare in attacco la coppia Giovinco Quagliarella alla vigilia Antonio Conte non esclude un futuro su un'altra panchina italiana compresa quella dell'Inter mettendo un po' di pepe Stramaccioni invece esclude questa ipotesi e si proietta per un finale degno dell'assalto alla Champions con la partita di Genova con la Sampdoria da recuperare la prossima settimana si è svuotata un po' l'infermeria con diversi recuperi tra convocati anche Guarin rientrato in ritardo dalla Nazionale stesso problema anche per Cavani che però Mazzari è intenzionato a schierare il titolare nel posticipo in casa del Torino per il padre del calciatore al 50% andrà a Real Madrid in trasferta anche il Milan che ha due punti da recuperare sui partenopei con il Chievo Allegri vuole sfruttare l'ottimo momento di Balotelli che il tecnico invita a non reagire in caso ricori razzisti intanto la società alla vigilia di Cagliari Fiorentina che si giocherà a porte chiuse denuncia il campionato falsato con un dossier alla Lega per disparità di trattamento delle squadre allo stadio Is Arenas per le due romane il rischio è ripensare troppo al derby di lunedì 8 aprile sottovalutando la sfida incrociata con Catania e Palermo ed è tutto ora la linea al colonnello Giuliacci per le previsioni del tempo poi il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancani buon proseguimento di giornata e a domani